Ciao ragazzi, oggi vi parliamo di un animale che molte persone temono. Oh, i pipistrelli! Ah, ma sono tipo quelli di Batman! Sì, esatto! Fino a molto tempo fa si pensava che il pipistrello fosse una creatura delle tenebre e si abbinava spesso a Dracula. In realtà i pipistrelli si dicevano di insetti, altre persone. L'unica specie di chirottero che si nutre di sangue mammifero è il pipistrello vampiro. I pipistrelli o chirotteri sono gli unici mammiferi in grado di volare attivamente. In Italia ci sono circa 30 specie, delle quale 24 risiedono in Piemonte. Vivono nelle grotte dove la luce è assente e l'umidità è abbondante. Il pataggio è una membrana di origine cutanea che si trova tra le zampe del pipistrello e le permette di volare. Per orientarsi il pipistrello usa dei sonar, ovvero suoni ad alta frequenza che non sono udibili dall'uomo. I chirotteri sono degli animali gregari, cioè vivono in colonie numerose. I pipistrelli possono essere utilizzati anche nella lotta biologica, evitando l'uso di sostanze artificiali come ad esempio i pesticidi. Grazie per aver visto il video! E ciao! Fine! Grazie! 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 Grazie!